Al via la seconda edizione della settimana dell'educazione ambientale del WWF in Abruzzo, un corso di formazione per insegnanti e operatori itinerante tra i centri di educazione ambientale WWF e le oasi presenti nel territorio regionale. Come per il 2020, la proposta dell'Associazione del Panda è quella di cominciare l'anno scolastico con un momento di formazione all'insegna della natura, con tanti appuntamenti previsti dal 4 al 10 settembre prossimi. La settimana è una settimana di corsi che saranno organizzate nei centri di educazione ambientale del WWF in Abruzzo. Sarà quindi itinerante sia nei CEA che nelle nostre oasi. I temi sono molteplici e molto attuali. Molto si parlerà di cambiamento climatico, ma si parlerà anche di erosione del suolo, degli alberi, del fiume e del rapporto tra specie aliene e specie autoctone, con le testuggini in particolare. Ma la vera forza dell'educazione ambientale del WWF sta nel metodo. Da 40 anni il WWF si occupa di educazione ambientale nelle scuole e lo fa partendo da una metodologia che era già allora innovativa e lo è tuttora. Cioè l'imparare facendo i ragazzi al centro dell'azione didattica e dell'apprendimento. Perché in questo modo si vogliono veicolare i concetti di rispetto e protezione della natura per fare dei ragazzi, dei cittadini di adesso e del futuro che siano responsabili e attenti alla natura. Ogni estate, questa in particolare, viste le alte temperature, ci troviamo a dover fronteggiare il problema degli incendi. Va fatto un piano che assolutamente nella nostra regione va cambiato l'approccio sia nel momento degli interventi da fare sia nel momento sia per la prevenzione. Quindi anche educare i cittadini a comportamenti corretti e ad allertare in modo immediato.